La notte del 24 di agosto, lui e il comandante Bianchi hanno coordinato tutte le operazioni in soccorso alle nostre popolazioni. Noi abbiamo avuto il terremoto alle 3.36, credo che io alle 4.20 circa, quindi meno di un'ora dopo il sisma, sono stato in grado di poter comunicare a tutti che non avevamo né morti e feriti, mentre arrivavano dall'altra parte dell'Apennino, invece indicazioni purtroppo strudamente molto più pesanti in questo senso. Grazie Enrico, grazie per quello che hai fatto per tutta la nostra comunità. Se arriva la carta, così la consegniamo, la consegniamo copia della carta. La porterai a Tomi, c'è dentro la sua norcia a forma di cuore e porterai a Giulia invece una pietra delle nostre macelle. Io ringrazio tutti, per me è un momento di partire l'emozione perché è qui, perché ci siamo conosciuti prima del sisma, abbiamo cominciato ad essere una squadra, quando ci siamo costituiti tu come sindaco e io come comandante della nuova tenenza di norcia. Abbiamo dato un esempio forse di istituzioni, di squadra, di collaborazione. Quella notte purtroppo eravamo soli, eravamo noi, i grarnieri, i colleghi della forestale, l'eroga, i barri bianchi con i vigili urbani e abbiamo fatto un vero esempio, secondo me, un vero sistema. ci siamo tutti quanti uniti per cercare di risolvere i problemi che c'erano e siamo stati bene, ci siamo uniti, abbiamo riunito insieme come dicevi e penso di aver dato quello che potevamo a tutti i cittadini di norcia con il cuore e ci siamo legati ancora di più e di più nell'amicizia. Grazie a tutti.